Mi chiamo Eba Lotz, sono di origine tedesca, però quando sono arrivata qui a Uppacchi stavo a Bolzano. Uppacchi si trova vicino ad Anghiari in provincia di Arezzo. È stato proprio aderire al progetto di Ecovillaggio Uppacchi che è partito il mio interesse per la comunicazione ecologica. Dopo un po' di tempo che abitavo qui mi rendevo conto che tanti dei problemi che avevamo in cooperativa venivano proprio dal fatto che non riuscivamo a relazionarci molto bene e pensavo di fare qualcosa per le relazioni qua, per migliorare, per riuscire a creare questa comunità e ho chiamato Jerome Bliss che è l'idiatore della comunicazione ecologica per venire a lavorare con noi. Ho fatto il corso con lui e Pino Desario per diventare facilitatrice in comunicazione ecologica. Dopodiché ho cominciato ad insegnarlo in giro anche a scuole, con altre associazioni. Anche adesso spesso mi chiamano gruppi che hanno un progetto di comunità intenzionale per poter imparare gli strumenti della comunicazione ecologica che sono dei strumenti molto semplici da usare. L'espressione comunicazione ecologica l'ha proprio creata Jerome Bliss. Così come lo intendeva lui era che la comunicazione tra gli esseri umani funziona come i sistemi in natura. Ecologia viene da Ecos Casa e lui lo intendeva proprio in questo senso che tutti abitanti di una casa si organizzino al meglio per realizzare lo scopo della loro convivenza e lui parla proprio di realizzare dello scopo comune. Questa è una delle parole chiave della comunicazione ecologica ed è stata creata proprio per questo. Per i gruppi di cambiamento sociale così come li chiamava lui negli anni 90. Dei strumenti che aiutano le relazioni all'interno del gruppo, la presa delle decisioni e anche l'attuare poi veramente lo scopo comune. Ci sono proprio dei strumenti a posto per ogni fase delle riunioni. Non ecologico sono le cose che Jerome chiamava le trappole della comunicazione umana. Per esempio la critica negativa. Siccome siamo esseri collaborativi se io ricevo una critica negativa mi sento subito avvilita perché io voglio di natura mia far piacere all'altro. Molto più ecologico per esempio l'apprezzamento dell'altro perché sottolinea la nostra natura collaborativa e ci sentiamo molto più gratificato con questo. Oppure un altro fatto che non è ecologico. Quando parliamo spesso interrompiamo l'altro. Abbiamo preso delle abitudini fin da piccoli che sono più di autodifesa perché già il nostro ambiente non sapeva comunicare con noi in maniera ecologica. Allora tante abitudini che abbiamo appresi sono di difesa. Tutto quello che ci mette in sintonia con l'altro possiamo chiamarlo ecologico. L'apprezzamento, l'entrare in sintonia tutto quanto culmina nella modalità dell'ascolto profondo. Ascolto profondo io lo chiamo la cura delle radici, delle relazioni. Se riusciamo a prenderci cura di queste radici anche in un gruppo, il gruppo diventa forte. Anche quando voglio dire una cosa a un'altra persona in maniera ecologica è importante che ascolto me stesso prima. Se io voglio fare una critica a te e guardo dentro di me e vado oltre la rabbia e dico io quando hai fatto tu questa cosa mi dico come mi sono sentita e so di che cosa ho bisogno da te faccio tutta un'altra cosa non ti faccio una critica negativa ti faccio una comunicazione ti faccio vado in sintonia con te e e secondo me riuscire veramente a praticare questa cosa nella vita quotidiana viene fuori una rivoluzione. L'Italia che cambia. Io parlerei della società che cambia. La società cambia quando comincia a cambiare la coscienza delle persone. La comunicazione ecologica e l'ascolto profondo per me sono dei strumenti favolosi per cambiare la coscienza delle persone perché siamo tutti in relazione, usiamo tutti la parola tutti i giorni. Se cambiamo la coscienza di quello che stiamo praticando tutti i giorni, cambiamo la vita proprio dalle radici.